Capitolo quattordicesimo Uscendo nell'atrio, Archer si imbatte nel suo amico Ned Winsett, l'unico tra coloro che Geni definiva una delle persone che lui stimava intelligenti, con il quale si intratteneva volentieri a discutere di vari argomenti in modo un po' più approfondito rispetto al livello medio riscontrabile nel circolo o nelle battute scherzose in trattoria. In sala aveva visto di sfuggita la figura di Winsett, dalle spalle curve e male in arnese, e una volta aveva notato che guardava verso il palchetto dei Beaufort. I due uomini si strinsero la mano e Winsett propose di andare a bere una birra in un piccolo ristorante tedesco dietro l'angolo. Archer, non essendo dell'umore adatto per il tipo di conversazione che avrebbero tenuto nel locale, declinò l'invito con il pretesto di avere del lavoro da sbrigare a casa, al che Winsett disse «Beh, quanto a questo anch'io ho da fare, sicché farò il bravo anch'io». Si avviarono insieme e a un certo punto Winsett disse «Senti un po', quello che vorrei veramente sapere è come si chiama la misteriosa signora che era in quel tuo palchetto pieno di gente elegante. Non era insieme ai Beaufort? Quella di cui il tuo amico Leffert sembra si sia innamorato?» Archer, senza capirne il motivo, avvertì un senso di fastidio. «Che diavolo voleva farci Winsett col nome di Ellen Olenska? E soprattutto perché lo metteva in relazione con quello di Lawrence Lefferts?» Non era da Winsett manifestare una curiosità del genere, dopo tutto, però, si ricordò Archer, era un giornalista. «Spero che tu non voglia farle un'intervista?» disse ridendo. «Beh, la stampa non c'entra, è solo per me», ribatté Winsett. «Il fatto è che siamo vicini di casa, strano quartiere dove andare ad abitare per una donna bella come lei. Ed è stata gentilissima col mio bambino, che per andare a cercare il gatto nel suo giardino è caduto e si è fatto un brutto taglio. Lei è arrivata di corsa a casa nostra senza neanche mettersi il cappello, portando in braccio il bambino con il ginocchio perfettamente fasciato. «Era così simpatica e bella che mia moglie ne è rimasta colpita al punto da dimenticarsi di chiederle il nome». Una gradevole sensazione di calore gonfiò il cuore di Archer. Nel racconto non c'era niente di straordinario, qualsiasi donna si sarebbe comportata così con il piccino della porta accanto, ma rientrava proprio nel carattere di Ellen. Ne era certo uscire di corsa a testa nuda, prendere il bambino nelle braccia e abbagliare la povera signora Winsett, fino a farle dimenticare di chiederle chi fosse. «È la contessa Olenska, una nipote della vecchia signora Mingott». «Per bacco, una contessa?» disse Ned Winsett, emettendo un fischio di stupore. «Bene, non sapevo che le contesse fossero così socievoli. I Mingott non lo sono». «Lo sarebbero, se voi glielo consentiste». «Ah, bene, era la loro vecchia eterna discussione riguardo all'ostinato rifiuto degli intellettuali di frequentare il bel mondo». Entrambi sapevano che era inutile continuare a battere su quel tasto. «Mi chiedo», riprese Winsett, «come mai succede che una contessa venga a vivere nei nostri bassi fondi? Perché non gliene importa un fico secco di dove abita, né dei nostri meschini steccati sociali?» disse Archer, segretamente compiaciuto del quadro che si era fatto di lei. «Ehm, suppongo che sia stata in bene altri posti», commentò l'altro. «Bene, eccomi arrivato». Ned Winsett era in grado di avere quei lampi d'intuizione, cosa che lo rendeva più interessante, e induceva sempre Archer a chiedersi perché, nonostante quella capacità, avesse accettato il fallimento con tanta calma a un'età in cui gli uomini, per la maggior parte, lottano ancora. Archer sapeva che Winsett aveva moglie e un figlio, ma non li aveva mai conosciuti. I due uomini si incontravano sempre al century, o in qualche ritrovo frequentato da giornalisti e gente di teatro, come il ristorante dove Winsett aveva proposto di andare a bere una birra. Aveva fatto capire ad Archer che la moglie era invalida, il che era forse vero per quanto riguardava la povera signora, a meno che non volesse dire che era carente di qualità per apparire in società, o di vestiti da sera, ovvero di entrambe le cose. Lo stesso Winsett nutriva una feroce avversione per le convenzioni. Archer, il quale la sera si cambiava perché per lui era un'abitudine più pulita e più comoda, e non si era mai soffermato a considerare che pulizia e comodità fossero due delle voci più care per un modesto bilancio familiare, era convinto che l'atteggiamento di Winsett facesse parte dell'insopportabile esibizionismo bohemian, che immancabilmente faceva apparire molto più semplici e meno impacciate degli altri, le persone appartenenti al bel mondo, che si cambiavano d'abito senza metterlo in evidenza, e non stavano a commentare continuamente il numero di domestici che il prossimo aveva a disposizione. Non di meno si sentiva sempre stimolato da Winsett, e ogni volta che scorgeva il magro volto barbuto e gli occhi malinconici del giornalista, lo tirava fuori dal suo angolo e lo portava in giro a fare una lunga chiacchierata. Winsett non aveva scelto la professione di giornalista, era un autentico letterato, nato intempestivamente in un mondo che di attività letteraria non aveva bisogno. Dopo aver pubblicato un volume di critiche letterarie concise e raffinate, di cui 120 copie erano state vendute, 30 date in omaggio e le restanti distrutte dall'editore, come previsto dal contratto, per far posto a prodotti più facilmente smerciabili, aveva abbandonato la sua vera vocazione ed era entrato in qualità di vice direttore in un settimanale femminile, in cui figurini e modelli di carta si alternavano a storie d'amore del New England e a pubblicità sulla temperanza nel bere. Sul tema Heath Fires, questa era la testata del periodico, Winsett era instancabile e spassoso, ma sotto la sua allegria si celava l'amarezza sterile dell'uomo ancora giovane che prima si era gettato nella mischia e poi si era dato per vinto. La sua conversazione induceva sempre Archer a fare il bilancio della propria vita e a renderlo consapevole di quanto poco contenesse. Tutto sommato, però, quella di Winsett era ancora più vuota e sebbene il patrimonio di interessi e curiosità che avevano in comune rendesse scintillanti i loro dialoghi, di solito il loro scambio di opinioni non usciva dai limiti di un astratto dilettantismo. Una volta Winsett aveva detto «Fatto sta che la vita non va bene a nessuno di noi due. Io sono a terra e fuori gioco, non c'è niente da fare. Mi sono messo a produrre un solo tipo di merce per la quale qui non c'è mercato, almeno finché io vivrò. Ma tu sei libero e sistemato bene dal punto di vista finanziario. Perché non ti crei dei contatti? C'è un solo modo per farlo, entrare in politica». Archer si era messo a ridere, rovesciando indietro la testa. Di colpo si vedeva la differenza incolmabile che esisteva tra uomini come Winsett e gli altri, quelli del suo tipo. Nell'alta società tutti sapevano che in America un gentiluomo non poteva occuparsi di politica. Ma poiché non poteva dirlo a Winsett in modo così netto, rispose evasivamente «Guarda che carriera fa un uomo onesto in politica qui in America. Loro non ci vogliono. Chi sono quelli che tu chiami loro? Perché non vi unite tutti insieme e diventate loro a vostra volta?» La risata di Archer induggiò sulle sue labbra, trasformandosi in un sorriso un po' condiscendente. Era inutile continuare la discussione. Tutti conoscevano il triste destino dei pochi gentiluomini che avevano messo a repentaglio la loro reputazione per occuparsi di politica a livello comunale o statale a New York. Era passato il tempo in cui era possibile svolgere quel tipo di attività. Il paese era in balia della gente che comandava e degli emigranti, mentre le persone per bene dovevano tornare a occuparsi di sport e di cultura. Cultura? Sì, magari l'avessimo, ma esistono soltanto pochi e piccoli appezzamenti locali che si estinguono qua e là per mancanza di… sì, proprio così, di un lavoro di scasso e di incroci. Si tratta degli ultimi rimasugli della tradizione europea che i vostri progenitori si portarono dietro. Ma voi siete una ristretta, misera minoranza, non avete un punto d'incontro, non avete agonismo, non avete un pubblico, siete come i quadri appesi in una casa abbandonata. Ritratto di gentiluomo. Non riuscirete mai a concludere niente finché non vi rimboccherete le maniche e non ficcherete le mani nel bel mezzo dell'etame, questo oppure emigrare, Dio se potessi emigrare. Archer si strinse mentalmente nelle spalle e cambiò discorso per tornare a parlare di libri, argomento sul quale Winsett, per quanto poco aggiornato, esprimeva sempre pareri interessanti. Emigrare, come se un gentiluomo potesse abbandonare il suo paese. Non si poteva fare di più, come non era possibile rimboccarsi le maniche e ficcare le mani nell'etame. Un gentiluomo poteva starsene semplicemente a casa sua e astenersi da tutto. Ma non era possibile aprire gli occhi a un uomo come Winsett. Ecco perché la New York dei circoli letterari e dei ristoranti esotici, anche se a scuoterla poteva suscitare lì per lì l'impressione che fosse un caleidoscopio. In ultima analisi risoltava una scatoletta, la cui componente appariva ancora più conformista di quella che presentavano le nullità gravitanti sulla quinta strada. Il mattino dopo, Archer vagò per la città nella vana ricerca di altre rose gialle. Di conseguenza arrivo tardi in ufficio e, resosi conto che questo suo comportamento non sollevava nessuna reazione, si sentì improvvisamente esasperato a causa della complicata inutilità della sua vita. Perché in quel momento non avrebbe dovuto trovarsi sulla spiaggia di St. Agustin con Mayweiland? Nessuno si lasciava ingannare dalla sua pretesa attività professionale negli studi legali di vecchio stampo, come quello diretto dal signor Letterbler, che si occupavano principalmente dell'amministrazione di grandi patrimoni e di prudenti investimenti. C'erano sempre due o tre giovani con una discreta posizione economica e privi di ambizioni professionali, i quali per un certo numero di ore al giorno sedevano alle loro scrivanie, svolgendo mansioni irrilevanti o semplicemente leggendo il giornale. Anche se si riteneva opportuno che avessero qualcosa da fare, la volgarità di un'attività mirata a far soldi era ancora giudicata umiliante, mentre quella dell'avvocato, essendo una professione, era reputata un'occupazione che si confaceva a un gentiluomo più del commercio. Ma nessuno di quei giovani nutriva eccessive speranze di progredire effettivamente nella sua professione, né lo desiderava seriamente, e su molti di loro si stava già propagando in modo evidente la muffa della superficialità. Archer rabbrividì al pensiero che anche lui potesse rimanere colpito dagli stessi sintomi di disaffezione. Di sicuro aveva altri gusti e altri interessi, le vacanze le passava viaggiando in Europa, coltivava i rapporti con le persone intelligenti di cui parlava May e in genere cercava di mantenersi al corrente, come aveva detto con una certa ansia Madame Olenska, ma una volta sposato, che ne sarebbe stato di quello stretto margine in cui viveva le sue autentiche esperienze. Ne aveva visti tanti di giovani, i quali avevano avuto i suoi stessi sogni, sia pure meno ardenti, e a poco a poco erano sprofondati nella placida e magnifica routine dei loro predecessori. Arrivato in ufficio, inviò tramite un fattorino un biglietto a Madame Olenska per chiedere se poteva andare a trovarla quel pomeriggio, pregandola inoltre di fargli avere la risposta presso il suo circolo. Ma il circolo non trovò niente e non ricevette alcuna lettera neanche il giorno dopo. Quel silenzio inaspettato lo mortificò in modo irragionevole, e sebbene il mattino seguente avesse visto uno splendido mazzo di rose gialle nella vetrina di un fioraio, lo lasciò dove era. Fu solo a distanza di tre giorni che ricevette per posta una breve comunicazione della contessa Olenska. Vide con stupore che proveniva da Skytercliff, dove i van der Luiden si erano precipitosamente ritirati dopo aver fatto imbarcare il duca a bordo del suo spiroscafo. «Sono fuggita», cominciava subito il biglietto, saltando i consueti preliminari, «il giorno dopo che ci siamo visti a teatro e questi gentili amici mi hanno ospitato, volevo starmene tranquilla a riflettere. Lei aveva ragione quando mi ha detto che sono molto cortesi, qui mi sento al sicuro, vorrei tanto che fosse con noi». Terminava con i convenzionali cordiali saluti, senza accennare alla data del suo ritorno. Il tono della lettera colse di sorpresa il giovane. «Da che cosa fuggiva Madame Olenska e perché sentiva il bisogno di mettersi al sicuro?» Suo primo pensiero fu che qualcosa la minacciasse oscuramente dall'estero, poi riflettè che non conosceva il suo stile epistolare e che forse si trattava di una esagerazione bella e buona. Le donne esageravano sempre. E per giunta lei non si trovava del tutto a suo agio con la lingua inglese, che spesso parlava come se la traducesse dal francese. Traducendo in francese la frase iniziale con «Je me suis evadée», si capiva subito che forse aveva voluto semplicemente sottrarsi a una sfilza di impegni noiosi, il che molto probabilmente era vero, dato che la giudicava capricciosa e facile a stancarsi del piacere del momento. Lo divertiva il pensiero che i Vanderluiden l'avessero preso e portato a Skytercliff per una seconda visita e stavolta a tempo indeterminato. Raramente e a malincuore le porte di Skytercliff si aprivano per i visitatori e un freddo weekend era il massimo che veniva offerto ai pochi privilegiati. Durante il suo ultimo viaggio a Parigi, Archer era andato a vedere la deliziosa commedia di Labische intitolata «Le voyage de Perichon» e ricordava l'attaccamento testardo e risoluto di Perichon per il giovane che aveva tirato fuori dal ghiacciaio. I Vanderluiden avevano salvato Madame Hollenska da un destino quasi altrettanto gelido, sebbene ci fossero molti altri motivi per cui si sentivano attratti da lei. Archer sapeva che al di sotto di tutti c'era la gentile e ostinata risolutezza di seguitare a salvarla. Nell'apprendere che Helen non era in città provò una profonda delusione e quasi subito si ricordò che soltanto il giorno prima aveva respinto l'invito a trascorrere la domenica con Reggie Chivers e la sua famiglia nella loro casa sullo Hudson a poche miglia da Skytercliff. Da tempo si era stufato dei rumorosi e calorosi ricevimenti che si davano a Highbank, del piccolo cabotaggio, delle corse a vela sul ghiaccio e in slitta, delle lunghe escursioni sulla neve e di una generale atmosfera tutta pervasa da blandi amoretti e scherzi ancora più garbati. Aveva appena ricevuto una cassetta di libri nuovi dal suo fornitore di Londra e aveva optato per la prospettiva di passare una tranquilla domenica in casa a esaminare la sua preda. Adesso, invece, andò nella sala di scrittura del circolo, scrisse in fretta un telegramma e disse al cameriere di spedirlo immediatamente. Sapeva che la moglie di Reggie non faceva obiezioni se i suoi ospiti cambiavano improvvisamente idea, in quanto nella sua casa ospitale c'era sempre una casa disponibile per gli ultimi arrivati. Capitolo quindicesimo Newland Archer arrivò dai Civersi il venerdì sera e il sabato adempì scrupolosamente tutte le formalità pertinenti a un fine settimana da trascorrere a Highbank. Al mattino fece un giretto in barca sul ghiaccio con la padrona di casa e alcuni degli ospiti più coraggiosi. Nel pomeriggio visitò la fattoria con Reggie e nelle scuderie, attrezzate di tutto punto, stette ad ascoltare estese e profonde dissertazioni sui cavalli. Dopo il tè si appartò in un angolo dell'atrio illuminato dal fuoco a chiacchierare a lungo con una signorina che all'annuncio del fidanzamento di Newland aveva dichiarato di averne avuto il cuore spezzato, ma che adesso era ansiosa di esternargli le proprie prospettive matrimoniali. Finalmente, verso mezzanotte, aiutò qualcuno a infilare un pesce rosso nel letto di un ospite, si mascherò da ladro nella stanza da bagno di una zia nervosa e fece le ore piccole partecipando a uno scontro coi cuscini che si estese dalla camera dei bambini fino allo scantinato. Ma la domenica, dopo colazione, si fece prestare una slitta leggera e si diresse alla volta di Skytercliffe. Si era sempre detto che la casa di Skytercliffe fosse una villa all'italiana, coloro che non erano mai stati in Italia ci credevano. E così pure quelli che c'erano stati. La casa era stata costruita dal signor Van der Luyden quando era giovane, di ritorno dal Grand Tour e in previsione del suo imminente matrimonio con Miss Luisa Dagonet. Era una grande costruzione quadrata di legno, le cui pareti erano incastrate a maschio e femmina e dipinte in verde pallido e bianco, con un portico corinzio e finestre intervallate da pilastri scanalati. Dal punto rialzato su cui sorgeva, si dipartiva una serie di terrazze delimitate da balaustre e anfore, come se ne vedono nelle incisioni, fino a un laghetto irregolare con una sponda di asfalto su cui protendevano la loro chioma alcuni rari esempi di conifere. A destra e a sinistra, i famosi prati senza erbacce, costellati di vari tipi di alberi, ciascuno dei quali appartenenti a una varietà diversa, si estendevano fino a diventare lunghe e linee erbose, sormontate da complicati ornamenti di ferrofuso. E più sotto, in un avvallamento, c'era la casa di pietra di quattro stanze che il primo patroun fece costruire sul terreno, datogli in concessione, nel 1616. La villa all'italiana si stagliava un po' severa contro il candore uniforme del lenzuolo nevoso e il grigiore del cielo invernale. Anche d'estate essa manteneva le distanze, tanto che neanche la più invadente aiuola di Coleo si era mai avvicinata a meno di dieci metri dalla sua imponente facciata. Nel momento in cui Newland suonò il campanello, il lungo tintinio sembrò eccheggiare attraverso un mausoleo, e la sorpresa del maggiordomo, che alla fine venne ad aprire, era grande, come se l'avessero destato dal suo ultimo sonno. Per fortuna, Archer era uno di famiglia e perciò, per quanto irregolare fosse il suo arrivo, aveva diritto a essere informato che la Contessa Olensk era fuori casa, essendo andata in carrozza alla funzione pomeridiana con la signora van der Luyden esattamente tre quarti d'ora prima. E il signor van der Luyden, seguito al maggiordomo, è in casa, signore, ma ho l'impressione che stia finendo di fare il suo pisolino, o altrimenti sta leggendo l'evening post di ieri. Stamane, al suo ritorno dalla chiesa, l'ho sentito dire, signore, che intendeva leggere l'evening post dopo colazione. Se vuole, signore, potrei andare a sentire attraverso la porta della biblioteca. Ma Archer, ringraziandolo, disse che sarebbe andato incontro alle signore, e il maggiordomo, comprensibilmente sollevato, chiuse con sussiego la porta dietro di lui. Uno stagliere portò la slitta nelle scuderie e Archer arrivò fino alla strada maestra attraverso il parco. Il villaggio di Skytercliff distava soltanto un paio di chilometri, ma dato che la signora van der Luyden non andava mai a piedi, sapeva di dover restare sulla strada principale se voleva intercettare la carrozza. Comunque, di lì a poco, scendendo lungo un sentiero che incrociava la strada, scorse da lontano una figureta che indossava un mantello rosso e un grosso cane che la precedeva correndo. Newland si affrettò in quella direzione e Madame Olenska si fermò di colpo accogliendolo con un sorriso. — Ah, è venuto! disse e sfilò la mano dal manicotto. Il mantello rosso la faceva apparire gaia e vivace come la Ellen Bingot dei vecchi tempi e lui rise nel prenderle la mano e rispose, sono venuto a vedere da che cosa è fuggita. Lei si rannuvolò in volto. Poi replicò, ah, bene, tra poco lo vedrà. — La risposta lo disorientò. — Perché intende dire che i suoi persecutori l'hanno raggiunta? Lei si strinse nelle spalle con un piccolo movimento tipico di Nastasia, poi ribatte in tono più leggero. — Vogliamo muoverci? Dopo la predica mi sono tutta infredolita e che importanza ha dal momento che lei è qui per proteggermi. Newland si sentì arrossire e le prese un lembo del mantello. — Ellen, di che si tratta? Deve dirmelo. — Oh, tra poco, prima facciamo una corsa. A stare qui ferma mi si gelano i piedi! esclamò e stringendosi nel mantello si mise a correre sulla neve mentre il cane le saltava intorno abbaiando in segno di sfida. Per un momento Arce rimase fermo a guardarla, felice di fissare quella meteora rossa balenare contro la neve. Poi la seguì correndo e si incontrarono ansanti e ridenti presso un cancelletto da cui si entrava nel parco. Ellen lo guardò e sorrise. Sapevo che sarebbe venuto. Ciò dimostra che voleva che io venissi e ribatte lui, provando una gioia esagerata nello scambio di queste inezzi. Il candore scintillante degli alberi riempiva l'aria con il suo splendore misterioso e mentre procedevano sulla neve sembrava che il suolo cantasse sotto i loro piedi. — Da dove arriva? chiese madame Olenska. Glielo disse e aggiunse, perché ho ricevuto il suo biglietto. Dopo una pausa lei disse con una certa freddezza appena percettibile nella voce. — May le ha chiesto di prendersi cura di me? Non c'era bisogno che nessuno me lo dicesse. — Intende dire, sembro proprio così debole e indifesa? Dovete pensare tutti che io sia una ben povera cosa. Ma pare che qui le donne non... pare che non abbiano mai bisogno non più delle anime beate in paradiso. Neulan abbassò la voce per chiedere, bisogno di che cosa? — Ah, non me lo chieda. Non parlo la sua lingua, ribatte lei stiziosamente. La risposta lo colpì in pieno e rimase fermo sul sentiero a guardarla. — Se io non parlo la sua lingua, che sono venuto a fare? — Oh, amico mio! gli mise la mano delicatamente sul braccio e lui le chiese ansiosamente. — Helen, perché non vuole dirmi che cosa è accaduto? Helen si strinse nelle spalle. — Non succede mai niente in paradiso? E gli state zitto e per un po' camminarono senza scambiare parola. Alla fine, lei disse, glielo dirò, ma dove, dove, dove? In quell'immenso seminario di casa non si può stare soli un minuto, con tutte le porte aperte, sempre con un domestico che porta il tè o un ciocco per il fuoco, il giornale. Non c'è nessun posto in una casa americana dove ci si possa appartare. Siete tanto timidi eppure tanto sfrontati. Mi sento sempre come se fossi di nuovo in convento o sul palcoscenico davanti a un pubblico. Terribilmente ben educato, che non applaude mai. — Ah, non le siamo simpatici! esclamò Archer. Stavano passeggiando davanti alla casa del vecchio patron, con i moritozzi e le piccole finestre quadrate raggruppate intorno a un cammino centrale, in modo da occupare poco posto. Le persiane erano spalancate, e attraverso una delle finestre appena lavate, Archer scorse il bagliore di un fuoco. — Guarda, guarda, la casa è aperta! disse. — Ellen si fermò. — No, solo per oggi. Almeno credo. Io volevo vederla. Così il signor van der Luyden ha fatto accendere il fuoco e aprire le finestre, perché potessimo fermarci lì di ritorno dalla chiesa stamattina. Salì di corso ai gradini, e cercò di aprire la porta. — Non è chiusa chiave, siamo fortunati. Entriamo, così possiamo parlare in santa pace. La signora van der Luyden ha proseguito in carrozza per andare a trovare le sue vecchie zie a Rinebeck, e a casa nessuno verrà a cercarci, per un'altra ora. Egli la seguì, inoltrandosi nello stretto passaggio. Il suo umore, che alle ultime parole di Ellen si era depresso, si risolevò con un guizzo irrazionale. Eccola lì, la casetta senza pretese, con i suoi pannelli e i suoi ottoni lucicanti al chiarore del fuoco, come se fosse spuntata magicamente per accoglierli. Un grande strato di braci ardeva ancora nel focolare della cucina, sotto una pentola di ferro appesa a un antico braccio girevole. Alcune sedie a braccioli con il fondo di giunchi si fronteggiavano ai due lati del cammino piastrellato, e sugli scaffali alle pareti erano disposti, in fila, dei piatti di Delft. Archer si chinò e gettò un ciocco sopra la cenere ardente. Madame Olenska, toltosi il mantello, si sedette su una delle sedie. Archer si appoggiò al cammino e la guardò. Adesso ride, ma quando mi ha scritto era infelice, disse. Sì, Ellen fece una pausa, ma dato che lei qui, non riesco a sentirmi infelice ora. Non rimarrò a lungo, ribatte lui, irrigidendo le labbra nello sforzo di non aggiungere altro. No, lo so, ma io sono incauta, vivo nell'attimo in cui sono felice. Le parole penetrarono in lui come una tentazione, e per tenerla lontana dai suoi sensi, si allontanò dal focolare, mettendosi a scrutare fuori i neri tronchi degli alberi che spiccavano contro la neve. Ma fu come se si fosse spostata anche lei, e lui la vide ancora, nello spazio tra sé e gli alberi, chinarsi sul fuoco con il suo pigro sorriso. Il cuore di Archer batteva furiosamente. E se fosse da lui che stava fuggendo? E se per diglia lo avesse atteso di trovarsi sola insieme a lui in quella stanza segreta? «Ellen, se veramente le sono utile, se veramente voleva che io venissi, mi dica cos'è che non va, mi dica da che cosa sta fuggendo», insistette lui. Parlò senza cambiare posizione, senza neanche voltarsi a guardarla. Se doveva succedere, così doveva succedere, separati da tutta l'ampiezza della stanza, mentre il suo sguardo era ancora puntato verso l'esterno, fisso sulla neve. Ellen tacque a lungo, e in quell'intervallo Archer la immaginò, quasi laudì, muoversi furtivamente dietro di lui per gettagli le sue delicate braccia attorno al collo. Mentre aspettava, fremendo nello spirito e nel corpo, che il miracolo si compisse, i suoi occhi captarono automaticamente l'immagine di un uomo che indossava un pesante cappotto con il collo di pelliccia sollevato e che percorreva il sentiero in direzione della casa. Quell'uomo era Julius Beaufort. «Ah!» esclamò Archer, scoppiando a ridere. Madame Hollenskab alzò in piedi e gli si mise a fianco, facendo scivolare la sua mano in quella di lui, ma dopo un'occhiata attraverso la finestra si fece pallida in volto e indietreggiò. «Così, di questo si trattava?» disse ironicamente Archer. «Non sapevo che fosse qui», mormorò Madame Hollenskab. «La mano di lei era ancora allacciata a quella di Archer, ma lui si staccò da lei e percorso il corridoio spalancò la porta della casa. «Salve, Beaufort, da questa parte!» «Madame Hollenskab ti sta aspettando», disse. «Il mattino dopo, durante il viaggio di ritorno a New York, Archer rivisse con chiarezza penosa gli ultimi momenti da lui trascorsi a Skytercliff. Beaufort, sebbene visibilmente seccato di averlo trovato con Madame Hollenskab, aveva affrontato la situazione con successo e con prepotenza. Il modo in cui ignorava le persone che con la loro presenza gli davano fastidio creava effettivamente in loro, sempre che se ne rendessero conto, la sensazione di essere invisibili e addirittura di non esistere. Mentre tornavano indietro tutti e tre attraverso il parco, Archer era conscio di questo senso di incorporeità che, per quanto umiliante per la sua vanità, gli dava il vantaggio di osservare senza essere osservato come se fosse un fantasma. Beaufort era entrato nella casetta con la sua solita sicumera, tuttavia non riusciva a cancellare col sorriso il solco verticale che aveva tra gli occhi. Era chiaro che Madame Hollenskab non aveva saputo niente del suo arrivo, sebbene quanto aveva detto ad Archer facesse intravedere tale eventualità. In ogni caso, era evidente che quando era partita da New York non gli aveva detto dove fosse diretta e che la sua inspiegabile partenza lo aveva irritato. Il motivo apparente della sua comparsa era la scoperta, fatta proprio la sera precedente, di una casetta meravigliosa, non in vendita, che era proprio quella che ci voleva per lei. Ma se lei non l'avesse presa, gli altri non se la sarebbero lasciata sfuggire e si mise a rimproverarla scherzosamente ad alta voce per averlo fatto andare avanti e indietro andandosene via proprio quando lui l'aveva trovata. «Sarebbe bastato che questo nuovo trucco per parlare tramite un filo fosse un poco più perfezionato, io avrei potuto dirle tutto ciò dalla città, e in questo preciso istante scaldarmi i piedi davanti al cammino del circolo, invece di sgambare appresso a lei sulla neve». Borbottò, dissimulando di essere irritato sul serio col fingere di esserlo. E a questa uscita, Madame Hollenska sviò il discorso sulla fantastica possibilità che un giorno le persone potessero veramente discorrere tra loro da una strada all'altra, o perfino, che sogno incredibile, da una città all'altra. Ciò li spinse tutti e tre a citare Edgar Allan Poe e Jules Verne, con tutte le banalità che salgono alle labbra delle persone più intelligenti quando parlano anticipando i tempi, e si occupano di una nuova invenzione in cui sarebbe ingenuo credere troppo presto, e l'argomento del telefono li fece tornare sani e salvi nella grande casa. La signora van der Luyden non era ancora tornata. Archer si congedò e andò a prendere la slitta, mentre Beaufort seguiva la contessa in casa. Era probabile che, per quanto i van der Luyden incoraggiassero poco le visite inattese, e gli potesse contare di essere invitato a cena e fatto accompagnare alla stazione in tempo per prendere il treno delle ventuno. Ma certamente non avrebbe ottenuto di più, in quanto per i suoi ospiti sarebbe stato non solo inconcepibile che un gentiluomo in viaggio senza bagaglio desiderasse passare la notte fuori casa, ma anche sgradevole proporlo a una persona come Beaufort, con la quale intrattenevano rapporti improntati a una cordialità molto limitata. Tutto questo Beaufort lo sapeva e doveva averlo previsto, e l'avere intrapreso quel lungo viaggio per una così magra soddisfazione rivelava fino a che punto fosse arrivata la sua impazienza. Non c'era alcun dubbio che stesse inseguendo la contessa Olenska, e quando si trattava di belle donne Beaufort aveva un unico scopo. La sua casa senza vita e senza bambini gli era venuta a noia, e oltre a consolazioni di carattere più stabile, era sempre la ricerca di avventure nell'ambito del proprio ambiente. Questo era l'uomo dal quale madame Olenska aveva ammesso esplicitamente di fuggire. Il problema era se fosse fuggita perché non gradiva le molesti di Beaufort, oppure perché non si fidava del tutto di se stessa di riuscire a resistergli, a meno che, effettivamente, tutta la faccenda della fuga non fosse una scappatoia e la sua partenza non fosse se non una manovra. In realtà Archer non ci credeva, sebbene a dire il vero conoscesse poco madame Olenska, cominciava a pensare di essere in grado di capirla, guardandola in viso, o quantomeno cogliendone il tono di voce. Quando Beaufort era comparso all'improvviso, il suo viso e la sua voce avevano rivelato fastidio e addirittura costernazione. Tutto sommato, però, se le cose stavano così, non era peggio che se lei fosse partita da New York con il preciso scopo di incontrarlo? Se aveva fatto questo, cessava di interessarlo e andava a far parte della schiera dei peggiori bugiardi. Una donna compromessa in una relazione amorosa con Beaufort si qualificava irrimediabilmente da sola. No, era mille volte peggio se, giudicando Beaufort e probabilmente disprezzandolo, era tirata da lui a causa di tutto ciò che lo poneva in posizione di vantaggio rispetto agli altri uomini che la circondavano, vale a dire la sua conoscenza di due tipi di società in due diversi continenti, i suoi ben noti rapporti di amicizia con artisti, attori e in genere con persone di fama mondiale, nonché il suo non curante disprezzo per i pregiudizi locali. Beaufort era rozzo, incolto, arrogante per via della sua ricchezza, ma le circostanze della sua vita e una certa astuzia congenita ne facevano una persona con la quale meritava parlare più che con molti altri uomini, migliori di lui, sul piano morale e sociale, il cui orizzonte era delimitato dalla Battery e dalla Central Park. Chiunque venisse da un mondo più ampio, come avrebbe fatto a non avvertire la differenza e non esserne attratto? Al colmo dell'irritazione, Madame Oleska aveva detto ad Archer che loro due non parlavano lo stesso linguaggio, e il giovane sapeva che per certi aspetti ciò era vero, ma Beaufort capiva ogni sfumatura del gergo di Ellen e lo parava scorrevolmente. Ciò che lui pensava della vita, il suo tono, il suo atteggiamento, erano semplicemente un riflesso più grossolano di quanto rivelato al riguardo nella lettera del conte Olenski. Forse questo sembrava non avvantaggiarlo nei suoi rapporti con la moglie del conte Olenski, ma Archer era troppo intelligente per ritenere che una giovane donna come Ellen Olenska avrebbe necessariamente respinto ciò che le ricordava il passato. Poteva darsi che fosse convinta di essersi definitivamente ribellata a quel passato, ma ciò che di esso l'aveva affascinata le sarebbe piaciuto ancora, anche contro la sua stessa volontà. In tal modo, con un senso di imparzialità che gli riusciva appena uso, il giovane cercava di dimostrare la giustezza del punto di vista sia di Beaufort che della sua vittima. Desiderava con tutte le forze chiarirle la situazione e c'erano momenti in cui egli immaginava che lei gli chiedesse proprio questo. Quella sera aprì la cassetta contenente i libri che gli erano stati inviati da Londra. Era piena di cose che aveva aspettato con impazienza, una nuova pubblicazione di Herbert Spencer, un'altra raccolta di brillanti racconti del prolifico Alphonse Daudet e un romanzo intitolato Middlemarch, riguardo al quale la critica aveva di recente espresso giudizi interessanti. Per concedersi quel piacere, aveva rifiutato tre inviti a cena, ma sebbene girasse le pagine con la gioia sensuale di chiama i libri, non si rendeva conto di che cosa stesse leggendo e li lasciò andare uno dopo l'altro. Tutto a un tratto notò in mezzo ad essi un volumetto di versi che aveva ordinato perché il titolo aveva richiamato la sua attenzione. The House of Light Lo prese e si trovò immerso in un'atmosfera del tutto diversa da quella mai respirata in precedenza leggendo altri libri, talmente calda, talmente ricca e tuttavia così ineffabilmente tenera da conferire una bellezza nuova e ossessionante alle più elementari fra le passioni umane. Per tutta la notte inseguì attraverso quelle pagine incantate la visione di una donna che aveva le sembianze di Ellen Olenska, ma il mattino seguente, quando si svegliò e guardò le case di Arenaria dall'altra parte della strada, pensando alla sua scrivania nell'ufficio del signor Letterbler e al banco di famiglia nella chiesa della Grazia, gli istanti trascorsi nel parco di Skytercliff divennero inverosimili quanto le sue visioni notturne. «Misericordia, quanto sei pallido, Newland!» commentò Jenny mentre prendevano il caffè a colazione, al che sua madre aggiunse «Caro Newland, ultimamente ho notato che tossisci, spero che tu non sia oberato di lavoro». Entrambe le donne erano infatti convinte che sotto il ferro dispotismo degli suoi soci e anziani, il giovane trascorresse la vita affrontando le più spossanti fatiche professionali, ma lui non aveva mai ritenuto necessario disingannarle. I due o tre giorni seguenti furono noiosi. Il gusto delle solite cose sembrava cenere nella sua bocca e c'erano momenti in cui aveva la sensazione di essere sepolto vivo nel proprio avvenire. Non ebbe notizie da Madame Olenska né in merito alla meravigliosa casetta e quantunque incontrasse Beaufort al circolo si salutavano con un semplice cenno del capo da una parte all'altra dei tavoli da Whist. Fu soltanto alla sera del quarto giorno che di ritorno a casa trovò un biglietto diretto a lui «Venga domani sul tardi, debbo delle spiegazioni a lei, Ellen». Queste erano le uniche parole che conteneva. Il giovane, che cenava fuori, si infilò il biglietto in tasca sorridendo un po' nel rilevare lo stile francese evidente nell'ultima frase. Dopo cena andò a teatro e fu soltanto dopo essere tornato a casa a mezzanotte passata che tirò fuori di nuovo la missiva di Madame Olenska e la rilesse lentamente diverse volte. C'erano molti modi per rispondere e li considerò tutti durante la veglia di una notte agitata quello su cui al mattino alla fine cadde la sua scelta consistette nel ficcare alcuni capi di vestiare in una valigia e saltare a bordo di una nave che proprio quel pomeriggio salpava per Sant'Augustin. Capitolo sedicesimo Archer, dopo aver percorso la strada principale invasa dalla sabbia di Sant'Augustin diretto verso la casa che gli era stata indicata come appartenente a signor Willand vide May Willand sotto una magnolia con il sole che le illuminava i capelli e si chiese perché avesse aspettato tanto tempo prima di raggiungerla. Quella era la verità quella era la realtà quella era la vita che gli apparteneva e lui non si riteneva tanto al di sopra delle limitazioni arbitrariamente imposte. Aveva avuto ritegno a disertare la sua scrivania per timore di ciò che la gente avrebbe potuto pensare se si prendeva un po' di vacanza. Newland è successo qualcosa fu la prima reazione di May e lui pensò che sarebbe stato più femminile se la fanciulla gli avesse letto subito negli occhi il motivo della sua venuta ma quando lui rispose sì mi sono reso conto che dovevo vederti il rossore di felicità di May eliminò il senso di gelo causato dal suo moto di sorpresa ed egli ebbe la certezza di quanto facilmente sarebbe stato perdonato e di quanto presto anche il miterimprovero del signor Letterblair sarebbe stato cancellato dal sorriso di parenti comprensivi sebbene fosse presto la strada principale non era il posto adatto per scambiarsi saluti meno che formali e Archer non vedeva l'ora di essere solo con May per manifestarle tutta la sua tenerezza e la sua impazienza mancava ancora un'ora la colazione che i Willand facevano tardi e May invece di invitarlo a entrare gli propose di fare due passi fino a un vecchio aranceto fuori dell'abitato era appena tornata dall'aver remato sul fiume e il sole che aveva coperto con una rete d'oro le piccole onde sembrava aver catturato anche lei incorniciando il volto abbronzato i capelli mossi dal vento avevano riflessi argenti e anche gli occhi apparivano più chiari quasi pallidi nella loro limpidezza giovanile mentre camminava a fianco di Archer con il suo lungo passo elastico il suo volto presentava la serena inespressività di un giovane atleta di marmo per i nervi tesi di Archer quella visione era calmante come la vista del cielo azzurro e del lento fiume si sedettero su una panchina sotto le piante d'arancio ed egli l'abbracciò e la baciò era come dissetarsi a una fresca fonte sotto i raggi del sole ma forse l'aveva baciata con più vemenza di quanto volesse perché May arrossì tutta e si tirò indietro come se lui l'avesse spaventata che c'è le chiese sorridendo al che lei lo guardò sorprese e rispose niente le colse un leggero imbarazzo e la mano di lei abbandonò quella di lui era l'unica volta che lui l'aveva baciata sulle labbra tranne quando si erano fugacemente abbracciati nella serra di Beaufort e lui si accorse che May era turbata e aveva perduto il suo contegno freddo e fanciullesco dimmi cosa fai tutto il giorno disse Newland incrociando le braccia dietro la testa appoggiata alla spalliera della panchina e spingendo in avanti il cappello per ripararsi dal bagliore del sole farla parlare di cose note e semplici era il modo più facile per continuare a seguire il corso dei propri pensieri lui sedeva ascoltando l'ingenuo reso conto di nuotate di gite in barca a vela e di cavalcate alternate con qualche festa da ballo nel primitivo alberghetto del posto in occasione dell'arrivo di una nave da guerra nella locanda erano arrivate alcune persone simpatiche da filadelfia e baltimora per una scampagnata e anche la famiglia di selfridge mary era venuta giù per tre settimane perché kate mary aveva avuto la bronchite avevano intenzione di allestire un campo da tennis sulla spiaggia ma all'infuori di kate e di me nessuno aveva le racchette e la maggior parte degli altri non aveva neanche sentito parlare di quel gioco tutto ciò la teneva molto occupata al punto che aveva avuto appena il tempo di sfogliare il libretto rilegato in pergamena che archie le aveva mandato la settimana precedente si trattava dei sonnets from the portuguese ma stava imparando a memoria una poesia di browning perché era una delle prime cose che lui le aveva letto e la divertiva il fatto di potergli dire che kate mary non aveva mai sentito parlare di un poeta di nome robert browning di lì a poco si alzò dicendo che avrebbero fatto tardi per la colazione e tornarono indietro in fretta e furia fino alla casa cadente con il portico bisognoso di una tinteggiatura e la siepe di piombaggi nei gerani rossi che aspettava di essere potata dove i Willand si erano sistemati per l'inverno dato che l'attaccamento morboso del signor Willand per gli agi domestici rifugiva dalle carenze del trasandato albergo meridionale ogni anno la signora Willand era costretta a improvvisare un minimo di organizzazione facendo assegnamento in parte sull'insoddisfatto personale domestico proveniente da New York in parte sulla manodopera di colore ingaggiata sul posto a costo di enormi spese e affrontando difficoltà pressoché insormontabili i medici vogliono che mio marito si senta come a casa propria altrimenti starebbe talmente male che il clima non gli sarebbe di nessun beneficio spiegava lei un inverno dopo l'altro alle persone comprensive che venivano da Filadelfia e da Baltimora e il signor Willand sorridendo radiosamente attraverso una tavola imbandita per la prima colazione fornita miracolosamente delle più diverse leccornie stava facendo in quel momento ad Archer vede mio caro amico siamo accampati letteralmente accampati io dico a mia moglie e a me che voglio insegnare loro come si vive senza tante comodità il signore e la signora Willand erano rimasti sorpresi quanto la loro figliola dall'improvviso arrivo del giovanotto ma questi aveva avuto la presenza di spirito di spiegare di essersi sentito sul punto di prendersi un brutto raffreddore e ciò sembrò a signor Willand una ragione più che valida per lasciar perdere qualsiasi impegno non si è mai troppo prudenti specie andando verso la primavera disse riempiendosi il piatto di schiacciatine color paglia e ricoplendole con uno sciroppo dorato se alla vostra età fossi stato più attento a quest'ora May andrebbe alle feste da ballo invece di passare l'inverno in un posto primitivo in compagnia di un vecchio invalido ma papà a me piace stare qui lo sai che mi piace se Newland potesse trattenersi a me piacerebbe mille volte di più che stare a New York Newland deve rimanere finché il raffreddore non gli sarà completamente passato disse la signora Willand con tono indulgente il giovanotto rise dicendo che secondo lui esistevano anche altre cose come la propria attività professionale in ogni modo dopo uno scambio di telegrammi con lo studio riuscì a far durare il suo raffreddore una settimana e la situazione assunse una connotazione umoristica in quanto si sapeva che l'indulgenza del signor Letter Blair era in parte dovuta al modo soddisfacente in cui il suo brillante socio giovane aveva risolto lo spinoso problema del divorzio olenski il signor Letter Blair aveva fatto sapere alla signora Willand che il signor Archer aveva reso un servizio di inestimabile valore a tutta la famiglia e che la vecchia vedova di Manson Mingot ne era rimasta particolarmente compiaciuta e un giorno in cui May era uscita in carrozza con il padre sull'unico veicolo disponibile sulla piazza la signora Willand aveva accolto l'occasione per affrontare un argomento che aveva sempre evitato in presenza della figlia temo che le idee di Ellen non siano uguali alle nostre aveva appena compiuto 18 anni quando Medora Manson la riportò in Europa ti ricordi che Putiferio quando al ballo da debuttante si presentò vestita di nero un altro dei ghiribizi di Medora che quella volta ebbe qualcosa di profetico deve essere successo almeno 12 anni fa e sin da allora Ellen non è mai stata più in America non c'è da stoppirsi che si sia completamente europeizzata ma la società europea non è favorevole al divorzio la contessa Olenska ha creduto che la sua richiesta di libertà fosse compatibile con la mentalità americana da quando era partito da Skytercliffe era la prima volta che il giovanotto pronunciava il suo nome tanto che sentì il sangue salirgli al viso la signora Willand sorrise con indulgenza sono proprio queste le cose straordinarie che gli stranieri inventano sul nostro conto sono convinti che ceniamo alle due del mattino e che tolleriamo il divorzio ecco perché mi sembra stupido accoglierli bene quando vengono a New York loro accettano la nostra ospitalità poi tornano a casa e vanno a raccontare le stesse scempiaggini Archer si astenne da ogni commento e la signora Willand proseguì noi però apprezziamo moltissimo il tuo intervento per convincere Ellen ad esistere da suo proposito sua nonna e suo zio Lovell non vi erano riusciti mi hanno scritto ambei due per dirmi che Ellen ha cambiato idea esclusivamente grazie a te in realtà ha detto proprio così alla nonna ha per te un'ammirazione sconfinata povera Ellen è stata sempre una bambina ribelle che cosa le riserverà il destino ciò che tutti noi abbiamo contribuito a prepararle fu tentato di rispondere Newland se tutti voi preferite che Ellen diventi l'amante di Beaufort anziché la moglie di un galantuomo state certi che siete sulla buona strada si chiese come avrebbe reagito la signora Willand se lui li avesse palesato a parole quei pensieri invece di tenerli per sé riusciva a figurarsi che in un botto ella avrebbe perduto il dominio dei suoi lineamenti fermi e tranquilli a cui l'essersi dedicata per tutta la vita ad approfondire la conoscenza di cose futili aveva conferito l'espressione di un'autorità artificiosa e su cui indugiavano ancora tracce di una fresca bellezza come quella della figlia chissà si domandò Newland se il volto di May era destinato ad appesantirsi col passare degli anni assumendo la stessa immagine di insopprimibile innocenza no assolutamente no non voleva che May avesse quel tipo di innocenza l'innocenza che isola la mente dalla fantasia e il cuore dall'esperienza io credo sul serio continuò la signora Willand che se quell'orribile faccenda fosse finita sui giornali mio marito ne avrebbe ricevuto un colpo mortale non ne conosco i particolari chiedo soltanto di ignorarli come ho detto alla povera Ellen quando ho cercato di parlarmene avendo un invalido da assistere devo mantenermi lucida e tranquilla ma il signor Willand ne è rimasto terribilmente sconvolto mentre aspettavamo di sapere che cosa era stato deciso al riguardo ha avuto sempre qualche linea di febbre e tutto per via dell'orrore che provava nell'eventualità che la sua figliola venisse a conoscere cose del genere ma naturalmente anche tu caro Newland la pensavi così noi tutti sapevamo che tu ti preoccupi per May mi preoccupò sempre per May ribatte il giovanotto alzandosi per dare un taglio alla conversazione approfittando di questo colloquio a quattro occhi con la signora Willand aveva avuto intenzione di chiederle di anticipare la data del matrimonio non riuscì tuttavia a farsi venire in mente nessun argomento per riuscire a smuoverla e fu con un senso di sollievo che vide arrivare in carrozza il signor Willand e May l'unica sua speranza era di tornare a supplicare May e il giorno prima della partenza andò a piedi con lei fino al giardino abbandonato dell'ammissione spagnola l'ambiente si prestava a una rievocazione di scenari europei inoltre May più incantevole che mai sotto un cappello a larghe tese che le gettava un'ombra di mistero sugli occhi troppo luminosi si accendeva ad entusiasmo a sentirlo parlare di Granada e dell'Alahambra può darsi che la prossima primavera vedremmo tutto questo anche le celebrazioni pasquali a Siviglia incalzò lui esagerando le sue richieste nella speranza di ottenere un consenso maggiore pasqua a Siviglia ma la settimana prossima comincia la quaresima disse lei ridendo e che vuol dire che cosa ci vieta di sposarci in quaresima ribatte lui ma al vederla tanto indignata si rese conto di aver commesso un errore ma è ovvio tesoro che non volevo dire questo ma subito dopo pasqua di modo che potremo imbarcarci alla fine di aprile quanto all'ufficio so di poter sistemare le cose a questa prospettiva may sorrise come in un sogno ma lui si accorse che le bastava sognare come quando lo ascoltava leggere ad alta voce dai suoi libri di poesia le belle cose che nella vita reale non potevano assolutamente accadere oh newland vai avanti adoro le tue descrizioni ma perché dovrebbero essere soltanto delle descrizioni perché non dovremmo tradurle in realtà lo faremo tesoro naturalmente ma l'anno prossimo disse may soffermandosi sulle parole ma non vuoi che divengano realtà al più presto che posso fare per convincerti a piantare tutto su due piedi may chinò la testa celandosi sotto la complice ala del cappello perché dovremmo sprecare un altro anno sognando guardami tesoro non capisci quanto desidero che tu diventi mia moglie per un attimo lei rimase immobile poi sollevò su di lui occhi carichi di tanta disperata limpidezza che egli allentò un po' il braccio che le teneva attorno alla vita ma improvvisamente lo sguardo di may si fece più profondo e impenetrabile non sono sicura di aver capito veramente disse il motivo è è che tu non sei sicuro di continuare a volermi bene archer si alzò di scatto dio mio forse non lo so proruppe irosamente anche may si alzò e mentre si fronteggiavano sembrò che lei crescesse nella sua statura e dignità di donna tacuero entrambi per un momento come fossero sbigottiti dalla imprevista piega presa dalle loro parole poi a bassa voce lei disse se le cose stanno così c'è qualcun'altra qualcun'altra fra te e me rispose Newland ripetendo lentamente le parole di lei come se stentasse ad afferrarne il senso e volesse prendere tempo ripetendo a se stesso la domanda sembrò che lei ne cogliesse l'incertezza perché continuò in tono reso più intenso Newland siamo sinceri a volte ho avvertito un cambiamento in te e specie da quando è stato annunciato il nostro fidanzamento cara ma è pazzesco esclamò lui riprendendosi ella accolse la protesta con un debole sorriso se è così non ci farà male se ne parliamo fece una pausa e alzando il capo con uno dei suoi gesti superbi aggiunse oppure anche se è vero perché non dovremmo parlarne può darsi benissimo che tu abbia fatto un errore lui chinò la testa fissando il disegno oscuro formato dalle foglie cadute sul sentiero assolato ai loro piedi è sempre facile commettere degli errori ma se si trattasse di uno di quelli che credi tu sarebbe plausibile che io ti supplicassi di affrettare le nostre nozze anche lei abbassò lo sguardo scompigliando il disegno delle foglie con la punta del parasole e nel contempo cercando faticosamente di trovare l'espressione giusta sì disse finalmente lei può darsi che tu voglia risolvere il problema una volta per tutte e questo è un modo per farlo la tranquilla lucidità di lei lo colpì ma non lo indusse a credere erroneamente che fosse attribuibile a insensibilità sotto l'attesa del cappello egli scorse il pallore del suo profilo e un leggero fremito delle narici sopra le labbra tenute risolutamente chiuse e allora domandò sedendosi sulla panchina e guardando in su verso di lei con un cipiglio che cercava di far apparire scherzoso May tornò a sedersi e continuò non devi pensare che una ragazza ne sappia poco come i suoi genitori credono si ascolta si prende nota ognuno ha i propri sentimenti e le proprie idee e naturalmente molto tempo prima che tu ti dichiarassi avevo saputo che c'era un'altra che ti interessava due anni fa a newport ne parlavano tutti una volta poi vi ho visti seduti insieme sulla veranda a una festa da ballo e quando lei rientrò in casa il suo viso era triste e mi sono sentita male per lei quando ci siamo fidanzati me ne sono ricordata la sua voce si era trasformata quasi in un sussurro mentre sedeva stringendo e allentando la presa delle mani intorno al manico del parasole il giovane vi appoggiò le sue con una leggera pressione sentendo che il cuore gli si allargava nel provare un sollievo inesprimibile mia cara bambina di questo si tratta se tu sapessi la verità May alzò subito la testa allora c'è una verità che non conosco egli continuò a tenere le mani su quelle di lei intendevo riferirmi alla verità riguardo alla vecchia storia di cui parli ma è proprio questo che desidero sapere Newland ciò che devo sapere non potrai costruire la mia felicità su un torto su un'ingiustizia fatta a qualcun altro e voglio credere che per te sarebbe la stessa cosa che tipo di vita potremmo costruire su basi del genere il suo viso aveva assunto un'espressione di coraggio talmente tragica che egli sentì il desiderio di prostrarsi a suoi piedi è tanto tempo che volevo dirtelo prosegui May ho avuto intenzione di dirti che quando due persone si amano sul serio io capisco che possano esserci delle situazioni per cui è giusto che se si mettano si mettano contro la pubblica opinione e se tu in un modo o nell'altro ti senti impegnato impegnato nei confronti della persona di cui abbiamo parlato e se c'è un modo qualsiasi un modo qualsiasi perché tu possa mantenere il tuo impegno anche facendole ottenere il divorzio Newland non rinunciare a lei per causa mia il suo stupore nell'apprendere che i timori di May si erano concentrati su un episodio tanto lontano nel tempo e del tutto dimenticato come la sua relazione con la moglie di Thorley Rushworth cedette il passo alla meraviglia per la generosità delle idee espresse da May in un atteggiamento tanto avventatamente insolito c'era qualcosa di sovrumano e se non fosse stato assillato da altri problemi si sarebbe soffermato a scoprire in virtù di quale prodigio la figlia dei Willand lo spingesse a sposare la sua ex amante ma era ancora disorientato dall'avere intravisto il precipizio in cui per un pelo lo avevano evitato di cadere e si sentiva colmo di un nuovo senso di rispetto per i misteri che si celavano nella personalità delle fanciulle in fiore per un attimo non riuscì a parlare poi disse non c'è nessun impegno né obbligo di nessun genere del tipo che tu credi casi come questi non sempre si presentano in un modo del tutto semplice ma non importa non importa amo la tua generosità perché in merito a queste cose la penso come te ritengo che ogni caso vada giudicato individualmente per quel che merita a prescindere da stupidi pregiudizi voglio dire che ciascuna donna ha diritto alla sua libertà si fermò allarmato dalla piega che stava prendendo il corso dei suoi pensieri poi proseguì guardandola con un sorriso tesoro dato che capisci tante cose non potresti spingerti un altro po' e capire quanto è inutile che noi ci sottomettiamo un'altra forma di identiche sciocche convenzioni se tra di noi non c'è niente nessuno non è questa una buona ragione per sposarci in quattro e quattro otto anziché aspettare ancora May arrossì dalla gioia alzò il viso verso il suo e lui mentre si chinava su di esso vide gli occhi di lei riempirsi di lacrime di felicità un attimo dopo però sembrò che lei fosse discesa dal suo piedistallo di donna per tornare a essere una fanciulla indifesa e timorosa e lui capì che il coraggio e lo spirito di iniziativa di May erano tutti per gli altri ma che non ne aveva nei riguardi di se stessa era chiaro che lo sforzo di parlare era stato molto superiore a ciò che la sua calcolata compostezza rivelava e che appena lui l'aveva rassicurata era tornata a essere quella di prima cioè una bambina troppo spericolata che cerca rifugio tra le braccia della mamma Archer non ebbe il coraggio di tormentarla ancora era troppo deluso per aver visto sparire la persona nuova che lo aveva fissato con tanta intensità attraverso gli occhi di May Costey sembra rendersi conto della sua delusione senza tuttavia sapere come fare per alleggerirne gli effetti quindi si alzarono e si incamminarono silenziosamente verso casa grazie a tutti 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 grazie a tutti